Eccoci, siamo sul Catulli Mirabilandia! Un anno dopo, ecco voi, Alessandro, Marco e Carlo! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi, è arrivato anche il colionazzo, più un colionazzo! Oggi ragazzi è 13, stiamo per partire! Siamo a partire, oggi è 13, 13 giugno, 13 giugno, siamo a partire! Pronti? Pronti? Ecco Lotto! Pronti? Vai! 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 Guarda! Cosa? Alla male vive, guarda, guarda! 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 Sì, è brutto, è brutto!